Io credo che possiamo iniziare adesso. Iniziamo così, visto che abbiamo poco tempo, soprattutto per la parte ministeriale. Quindi prima di iniziare ringrazio molto il Ministero che appoggia dalla prima edizione del Forum Italia Africa Business Week. Abbiamo oggi Emmanuel Del Rey, che è Vice Ministra degli Affari Esteri, con delega alla Copersione Internazionale. Grazie mille per il supporto e la presenza. Ringrazio molto il Ministro degli Affari Esteri di Madagascar, Tain Trasana Rivello Djavokat Oliva, che oggi è il Paese ospite d'onore di questo Forum. Sono molto contenti della collaborazione che stiamo avendo con l'Ambasciata di Madagascar e il lavoro che l'Ambasciata ha fatto per permettersi, giustamente, di arrivare a avere il Ministro con noi. Che doveva venire, purtroppo, la situazione attuale non permette, giustamente, di fare gli eventi in presenza. Ringrazio molto l'Ambasciatore Ali Kulbali, che è il padrino di questa quarta edizione, l'Ambasciatore che abbiamo conosciuto a Bamako con la visita che abbiamo fatto con la Vice Ministra del Rey e siamo contenti che sia qui oggi e che si rappresenta. Ringrazio molto il Direttore Marapodi, che è il Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione e sviluppo del Ministro degli Affari Esteri, che è un organo che si aiuta e si accompagna e che è molto attento al discorso dell'Idi Aspore. Ringrazio molto il Direttore di Soprimi Stretta, Direttore centrale per i Paesi dell'Africa Subsahariana, che poi arriva un po' più tardi e giustamente rappresenta quella relazione diplomatica che c'è tra l'Africa e l'Italia. Ringrazio molto Luca Maestipieri, che è il Direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione e sviluppo, un altro organo che si dà molto la mano a livello aiuto, sassoio e cooperazione. La diaspora è una realtà molto importante per l'AEX, lo sappiamo benissimo. Quest'anno abbiamo una presenza forte dei funzionari della cooperazione, l'AEX all'interno di diversi panel e quindi avremo molta conoscenza dei lavori che fanno la cooperazione a livello africano. Ringrazio molto Walid Lukil, che è il Vice Direttore generale del gruppo Lukil, che è un partner che abbiamo conosciuto dall'inizio del forum e sono quattro anni che sta con noi. Ringrazio Antonella Baldino, la Direttrice della cooperazione per la Casa dei Posti di Prestiti, che è un altro organo che ci dà la mano e siamo contenti di averla con noi. Ringrazio molto San Piero Succi, di Buone Leredi, che non è soltanto un partner strategico, ma è anche un sponsor di quell'evento. Ringrazio Michele Giuzzi, che è il Vice Presidente Relazione Istituzionale di Scenia Industrial, che è una realtà che anche sponsorizza e accompagna il progetto. Abbiamo qualcosa di molto bello oggi, abbiamo il dottore Yamune Chomba, un medico, anche un professore, che rappresenta quella italianità africana. È un ragazzo, sembra giovane, quindi poi lo sapremo oggi se è vero o no, ma è italo-congolese. Ma quello che volevamo raccontare oggi è quella presenza della diaspora italo-africana nel lavoro che stiamo cercando di fare. Cercherò di essere breve perché so benissimo che abbiamo poco tempo. Il forum quest'anno ha come tema il branding Italy in Africa e avrà come obiettivo quello di fotografare lo stato e l'arte delle relazioni tra l'Africa e l'Italia, ma soprattutto analizzare i possibili sviluppi dei settori chiavi del progetto, favorire lo sviluppo di sinergie e partnership tra tutti gli attori dell'ecosistema e generare nuove idee. L'obiettivo principale di questa nuova edizione è rilanciare il modello di business e di cooperazione internazionale tra l'Italia e l'Africa. Mi hanno chiesto perché abbiamo deciso di fare il branding Italy in Africa e non il branding Africa in Italia. Ho risposto perché noi abbiamo l'Italia, perché sappiamo che noi italiani, in quanto noi italiani, credo che può offrire questo nostro paese ai paesi africani. perché la sua struttura industriale, la sua realtà fatta di piccole e medie imprese, la sua organizzazione in classe industriale, la sua resilienza, l'abbiamo visto molto durante la prima fase del Covid-19, quante imprese italiane sono convertite in imprese per lottare contro la pandemia, la sua cooperazione internazionale, sappiamo quanto la cooperazione italiana è presente in Africa, quanto lavoro tantissimo per affrontare situazioni difficili, siamo resi conto che questo può essere utile e questo rende giustamente l'Italia il partner ideale per i paesi africani. L'Africa è una realtà che ha tanta voglia d'Italia, i paesi africani hanno tanto voglia d'Italia, hanno tanto voglia di qualità, di saper fare, che è il tipico delle realtà italiane. Dobbiettivo quindi superare le barriere, lo scetticismo tramite partnership d'affari, con la condivisione del know-how e delle buone pratiche d'impresa e la costruzione del rapporto personale prima ancora che d'affari. Il forum suppone quindi come occasione di approfondimento e di networking per esplorare le opportunità di business per le imprese italiane in Africa, ma anche come un'occasione per incontri istituzionali e bilaterali di alto livello, e incontri B2B, B3B, tra imprese, professionisti, istituzionali e africani, con la presentazione e conferenze di alto livello. Creare le condizioni per incitivare la collaborazione tra l'Italia e i paesi africani è l'obiettivo ultimo di questo forum. Introdurre eccellenze e saper fare nel mercato africano, favorando lo scambio di conoscenze e formazione, e incitivando la nascita delle strutture imprese un blocco, creando valore e compassione a tutti i livelli e per gli attori convolti. In chiusura, questo che non vuole essere molto lungo, vorrei ancora ringraziare tutti i partner dell'evento, ringraziare il Ministero, ringraziare tutti i partner, ringraziare soprattutto i speaker che comunque hanno accettato di stare con noi in tre giorni e raccontare la loro esperienza. Vorrei ringraziare molto anche i sponsor, che è molto importante ricordarlo perché sponsor da quelli che si danno la mano per organizzare l'evento. Abbiamo il Senaka Industriale e Bolini Erede che sono partner strategici, strategici ma anche sponsor. Ringrazio molto anche l'Aex che quest'anno ci ha dato anche il contributo per organizzare l'evento. E ringrazio tutti, lo staff che comunque ha lavorato in quei giorni per organizzare l'evento, è stato molto difficile organizzare l'evento. Abbiamo passato dall'evento in presenza, l'evento ibrido, poi completamente online, perché mi hanno reso conto che sarebbe stato difficile farlo in presenza o in modo ibrido. E chiaramente ringrazio anche la Villa Aurelia, dove siamo oggi, che è una realtà che si è dato veramente la mano per l'organizzare l'evento. Vi ringrazio tutti e buon forum. Grazie a tutti.